Eccoci con il tutorial per inamidare questo orecchino per il tutorial del fiore all'uncinetto vi lascio il link qui e niente, andremo a fare tre tipi di lavorazione con tre modalità diverse e tre inamidature diverse il necessario è molto semplice un pennello molto morbido il vinavil, la colla vinilica acqua e glitter a vostra scelta vi lascio le tre diverse lavorazioni non staccate il video che è molto divertente qui metterò del vinavil su una tovaglietta di plastica mi raccomando non lavorate né su carta né su altri materiali che assorbono il vinavil quindi cartone o cartoncino perché se no il vostro fiore vi rimarrà attaccato e non si staccherà più io lavorò su questa tovaglietta da pranzo di plastica sto mettendo una noce di vinavil, dell'acqua e i glitter tutto insieme adesso aggiungerò un po' d'acqua perché il composto mi è venuto un po' duro e comunque questa prima lavorazione sarà una mitatura molto resistente che indurisce molto il fiore all'uncinetto adesso non vi spaventate quando il fiore diventerà tutto bianco perché asciugando poi il vinavil, vedrete il risultato diventerà comunque trasparente qui sto aggiungendo dei glitter ma questo lo potete fare a vostro piacimento vedete bene la densità del vinavil la cosa importantissima è di non stendere il vinavil così come sto facendo in questo momento cioè a spennellare ma a tamponare il pennello deve praticamente sbattere sul fiore per far entrare bene il vinavil nelle fibre ma di non rimanere all'interno di quei buchini che formano la lavorazione all'uncinetto o dei pizzi è la stessa cosa perché se rimane una goccia di vinavil dentro ai buchini vi resterà bianca e invece quella che verrà assorbita bene dalla trama del cotone diventerà trasparente questo è molto importante perché molte di più mi hanno detto che si trovano male in amitare con il vin proprio perché gli rimangono dei grumi bianchi invece in questo modo tamponando bene 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 il fiore vedrete che sarà tutto perfetto logicamente il lavoro di in amitatura va fatto in entrambi i lati dopo l'asciugatura di ogni lato questo è il dopo guardate che belli questa lavorazione come vi dicevo rimarrà molto più rigida in confronto alle altre che vi farò vedere adesso questa è la seconda lavorazione userò dei glitter rossi da Nile Art bellissimi come vedete la consistenza del vinavil e dell'acqua è molto più liquida ho aggiunto molto più acqua in confronto al vinavil diciamo che siamo metà 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 vinavil e metà acqua come quantità in questo caso verrà un'animitatura meno rigida quindi molto più morbida i glitter non si staccheranno lo stesso state sicure questo è il risultato dopo l'asciugatura direi eccezionale un po' più morbidi come vedete ma bellissima comunque la terza sarà una lavorazione su un fiore all'uncinetto del quale non ho fatto ancora il tutorial se l'ho fatto vi metto il link qui sopra ha quattro punte come vedete molto liquido con i glitter sempre all'interno del vinavil ma in questo caso li aggiungeremo anche dopo perché volevo vedere l'effetto insomma con più brillantini come vedete adesso metterò i glitter proprio con il barattolino ecco qua li sto mettendo l'effetto sarà bellissimo cerco di attaccarli meglio con il pennello in modo che si attaccheranno al vinavil che abbiamo messo prima però vi assicuro che non si staccheranno più e adesso vi faccio vedere che riallargo un po' i buchini perché con il vinagli potrebbe succedere che si chiudono in questo caso li ho messi a asciugare sul termosifone poiché è inverno e quindi ho potuto fare questa chicca per questa pittura vi lascio il link in alto ecco qui il risultato questo è quello blu stupendo con i glitter messi dopo e come vedete non si staccano assolutamente è venuto un fiore stupendo questo è quello rosso qui c'era più luce quindi vi l'ho fatti vedere meglio quelli sono con i glitter diciamo multicolore e questo è quello bianco e grigio ma non si vedono i glitter niente ora vi lascio il prossimo tutorial sarà questo qui come montare questi fiori e finire insomma l'orecchino per poterlo indossare ciao da Alessia Lux grazie a tutti i nostri fiori